Regolamento sicurezza generale dei prodotti. Il 13 dicembre entra in vigore il nuovo regolamento su tutti i prodotti non marcati CIE, su tutti quei prodotti che non hanno una regola di prodotto più specifica. Se il prodotto è già in regola con la vecchia direttiva sicurezza generale dei prodotti non cambia tanto. Se il costruttore, produttore, importatore scopre adesso che esiste questa regola, e non è così raro, probabilmente cambia qualcosa. Cosa dice il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti? La prima cosa è che lui è pensato non contro i produttori europei, non nello specifico italiani, ma è pensato contro quelle piattaforme online tipo Temius Line che importano da extra UE, non rispettano niente e vendono qua. Quindi è un grande coppia e incolla di altre direttive, di altri regolamenti. Di per sé, di nuovo, non c'è tantissimo. Ma se devo dare un consiglio al produttore che si trova davanti a questa rogna, e lo scopre adesso, e la scadenza è il 13 dicembre, quindi manca meno di un mese, Santa Lucia, regalo di Santa Lucia. Cosa gli consiglio? La prima cosa è, crea una sezione online con cui puoi raccogliere i reclami, le richieste di informazioni, i malumori, i contatti dei consumer. Perché questo regolamento è rivolto ai consumatori, ai prodotti rivolti ai consumatori, non ai prodotti rivolti ai B2B, uno che vende solo a partita IVA. Però, tantissimi di quelli che mi chiamano, hanno questo problema. Ma loro vendono B2B, ma vendono B2B a distributori, grande distribuzione, o rivenditori autorizzati, o auto-officine, o meccanici, o persone che poi possono rivendere a loro volta. E questo crea il problema del mio prodotto. Sì, è vero che lo vendo B2B, ma poi può finire o nobbista, poi può finire a un pensionato, poi può finire a una casalinga, a un ragazzino. E quindi, questo regolamento entra dalla finestra. Al momento mi sono capitati i clienti dell'agricoltura e i clienti della motoristica, che hanno questo problema qua. Però penso che sia un problema che valga anche un sacco di altri prodotti che non mi sono ancora capitati. E questo video serve per dirvi cosa bisogna fare. Bisogna dividere il vostro catalogo in famiglie di rischio. Diviso il vostro catalogo in famiglie di rischio, si dice questa famiglia di rischio e valuto il rischio. Da questo rischio valutato faccio nascere un foglio illustrativo, dove spiego i rischi e come comportarsi con questi rischi. Faccio nascere un'etichetta conforme al regolamento e metto un link al sito, dove possono scaricare tutto. Con i prodotti questa etichetta può essere attaccata al prodotto, su altri sarà sul packaging. Dovete guardare l'articolo 9 del regolamento sicurezza generale dei prodotti. Ne trovate gli obblighi del fabbricante. Non è nulla di complicato, ma bisogna farlo con una certa cura. Quindi questo video serve solo a dire non esageriamo con la pericolosità con l'impatto di questo regolamento, non riempiamoci di troppa carta, perché poi la carta va seguita, ma anche non freghiamocene, perché è un'ottima occasione per mettersi a posto, perché le cose che chiede questo regolamento erano già in vigore da 15 anni. Non è una cosa di adesso. Spero che vi sia utile. Ciao!